Ma buonasera duellanti invertiti, ma poi perché invertiti? Siamo qua con il Milanista e con King Fox e oggi giochiamo il Dinomorfia con il Skara 2 Invertito, fuori di testa Cosa fa Quiz Invertito? Mandiamo tutte le carte dalla mano e dal terreno al cimitero Dopodiché scegliamo una carta mostro ma geotrappola che in cima al deck Se la azzechiamo, cosa succede? Quelli siamo esattamente noi Si fa schifo, con il punto di domanda Cioè scambiamo i life points con quelli dell'avversario Esattamente, quindi con Dinomorfia ogni volta che attiviamo qualsiasi carta si paga a metà dei riporti Un po' come gli scambisti le coppie Si, diciamo che è la cosa Si scambiano un po' Allora facciamo la decklist La combo base di Dinomorfia è arrivare a 2000 life points di turno 1 Poi grazie a altre carte possiamo andare a meno Grazie a altre carte 2x di maxi, 3x della terzia, 3x del diplos, mono ricastro, quiz invertito, 2x di fascino, 2 scagli fossili, 3 into the voids Scambiano un po' dopo Già la naturalità Avanzate le carte così Attivando questa sappiamo che carta giriamo Quindi possiamo vincere tranquillamente le partite Pendente nero e Getsu Fuma Si vincere per il modo di dire ovviamente Poi il libro che fa la stessa cosa Si ma spiega il perché del pendente nero e Getsu Fuma Quando noi attiviamo come si dice quiz invertito Cioè spaschiamo tutto Diamo i nostri life points che sono sempre 1000 o meno di 1000 E mandando al cimitero ovviamente Fuma o il pendente nero che abbiamo in mano Facciamo i danni all'avversario Quindi l'avversario gli diamo 700 life points Quindi se gana la partita Si con Getsu Fuma Se vince la partita Stiamo dicendo porco Dio Due per di supporto di fusione Due per di chiamata la merda Dominio Stefanino e Giudizio Solelli Il signore spazzatura Ovviamente ci sono tutte le fusioni Ma che cazzo Ci sono tutte le fusioni del Dinomorfia Il numero 70 Il numero Melfi Questo era l'extra deck dell'altro deck E non c'è Zeus Non c'è Zeus porco Dio Non si può assolutamente fare Andiamo a battere il povero Malcatello Decapitato Il povero stronzo Il povero decapitato Decapitato Come de antacolissimo Perché adesso andiamo a decapitare noi Mi raccomando Facci partire per Facci partire per Primi Per Per Porco Gesù Dai Gesù partiva sempre per primo Su quel cazzo di Montesina E di merda Bravissimo No la vedi Ma cosa zi Cos'è? Cosa è successo? Ma no veramente Immaginate che Quella mente Ma chi è che è? È Yehub Veramente Yehub È uno youtuber O è uno che c'è il nome simile Eh vabbè che cazzo No se lui si è messo quel nome lì Nessun altro può messare Ah lo ti capiamo con il quiz Sì 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 Lo ti capiamo col quiz Ma abbiamo il quiz inventito Per pescare il mostro Dai Yehub Il mostro il mostro il mostro Il mostro di prego Dio porco Mi sa che c'è la faccia da Blossom E ci abbiamo richiamato Non so Dai il mostro ti prego Ma che connessione di merda È la tua Eh lo so Però aspetta Aspetta Eh ma manca cazzo Manca Manca cazzo Porco Dio Allora facciamo una cosa Senza paura Stiamo 5 no Eh no Eh per forza Lo scartiamo tutto Eh sì Spaulderino perso Porco Dio Diehub Diehub è per cortesia Che faccia c'è a sto Diehub Eh è un po' così C'è una faccia da tipico due lati Perché si è dato fascino sotto È un ragazzo abbastanza pacioccone No no Attivato un to the void Attivato Faccio fascino No No lo tengo No lo tengo Questo è detto Eh ma che palle Eh ho peccato Peccato Spectralice Minchia sempre Pieno di Spectralice Signore Dorati Ma che è Santa carta Ma ne è Diehub No 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 Guarda che ci sono mazzi competitivi Da 60 carte Che cazzo c'entra Eh ne è Diehub Galara Semir Eh che palle Porco Dio Eh può essere Diehub è come Ma tra l'altro su 60 carte Lo pesca Dio porco Ma tra l'altro su 2 milioni di giocatori Pesca i Diehub Minchia Non c'è Non saluto a Diehub Se ci sta guardando Ma secondo me non è a lui No non è a lui Questo è un fake Ci starebbe Ci sarebbe ancora di più Fargli il culo Questo è Bobo Che si chiama Diehub Sì ma questo ci scopa il culo Che oddio Sì proprio Salutiamo Salutiamo X-X Master Ciao X-X Olandia Il mitico Che questo è il drago bianco di X-X Ma che schifo è quello lì Palla X-Rigna Guarda che questo qua è Diehub Sai perché? Perché è un mazzo strano Non per il mazzo Lascia stare che il mazzo Mi fa pensare che sia lui Perché sia lui Perché c'è questa faccia No perché Lui ha esattamente Quell'avatar E ha esattamente L'MK2 come personaggio Allora è proprio lui Allora porco Cioè o è uno che lo sta copiando Pari in passo Ma mi sembra veramente assurdo Il re di Kupio Oh guarda Spectraly C'è scartato Ah gioca lui Lozzi Lozzi questo è Diehub Minchia copia di la lista Quindi L'abbiamo perso Minchia Vabbè che abbiamo perso Lo sapevo già dalla prima mano Vabbè se quello non c'è alcun dubbio Però Richiamato Minchia che schifo richiamato Vedi Se fosse un ricastro Richiamato dalla tomba Richiamato dalla tomba Richiamato dalla tomba Beh in effetti Questo cosa fa Ci fa tornare una carta in mano vero? Richiamato dalla tomba No una carta Ci fa ritornare quiz invertito No ok Che facciamo? L'attiviamo? Ci perdiamo se In effetti direi proprio che non è C'è di kappa questo Aspetta però Qua devo per forza attivare questa Non è in chain C'è il grifone vagante Quello nega Quello nega il grifone Esatto Ma così vai a 4000 E lo so Katrin Che devo fare? Uragano Katrina Vai Katrin regina Noi crediamo Ciao Ciao Ti ho detto proprio Se fanno blossom Su Come si chiama? La trappola La trappola pezzo Aho Aho Diegub Aho PIGLIA D'AR CULO LA FIORITURA Pezzo del merito Ma perché? Ma poverino Vabbè ci mancherebbe Adesso Aho forte quella contro Spectre Adesso Spectre c'entra Eh porco dio Vabbè Mica possiamo leccare i coglioni Diegub Magari sta manina di merda Ma che bello Ma che bello Ma Questo pensa Che palle Il solito dinomorfia Vai vai Cosa sei No Katrin Katrin in difesa Katrin in attacco Così perdiamo come prima Adesso non c'è nessun Dispia De merda Lo sapeva Lo sapeva pure lui Lo sapeva pure lui Ma si Ti fa Kaiju Kaijuone È a zero Perché è a zero Eh perché c'è montata Delle points Poi fa lui Inutano in 2000 No perché Ma ha targetato quella Eh porco dio Però se attivo questa Ma me la nega con questo Male E rimane zero Sì Bellissimo Vabbè è una volta la picchia Petra È ben perso No questa qua È evocata al mazzo Chi È evocata al mazzo La Katrin regina Si Sembra quello della nega Eh ma Comunque Trovo veramente assurdo Che i mazzi Da 60 carte Per quanto montati bene E competitivi Riescano a girare bene Cioè Sai guarda che su magic Sono 10 Sempre da 60 carte Ma poi è un gioco Completamente diverso Dove con le terre Con le terre Fanno lo schifo Eh Anche su Kifor Sono da 60 Però è vero Non è vero Non anzi Sono bellissimi Mi chiede 36 carte Pochissime Un bricchi mai Un briccosè Allora L'effetto di quello È che tanto Se la Se la Riquipavo No io quanto odio Il rito di Anasemiro Madonna vera me Ma perché l'ho fatto usci Comunque quel mazzo Il nuovo live gemella Per me Te lo dico No live gemella Non ha uguali La gemella Non ha uguali A nessuna Altra volta Ho perso una partita Con live gemella Che c'aveva una carta E aveva È arrivato con tre mostre E cinque carte in mano Ma dai Che t'ho mandato Perfetto Schifo Discepolo Linke Linkeburg Gianmarco Linkeburg Ma che cazzo fa Col pafupo Che non so Se lo gioco A un motivo C'è Infatti Questo è lo tk Non ha vinto Ma questo se continui a evocare In sto turno non ha vinto Il Paxia Sì ha vinto Sì che ha vinto Allora In teoria cosa succede Io attivo l'effetto Della Catherine Regina Lui cento per cento Me lo nega di questo E perdi Quindi Catherine Regina Evoca dal mazzo Cosa fa sto qua? Evoco il boss in difesa Attivo l'effetto Mi mando una trappola E in teoria Non dovrei morire In teoria Muo Sì muoio Ma diecube Diecube Quante cari Cristo Cristo di merda Cosa fa sto discepolo del cazzo Non mi ricordo Preferi come tributo Pesca una carta E poi metti una carta Basta Non me lo chiedere più Finché non dico io Quanto è bello Se rimaniamo tipo No E non può E manca poi tra l'altro Il gesso fuma de merda Cioè Manca tutto sto mazzo Ma come gira Come fai Porco dio A lui riesce a girare Un mazzo di 60 carte A voi no A noi no Imbarazzante Gira pescando Gira Non peschiamo un cazzo Gesù bastardo di merda Ha messo pochi peschini Ma pochi bebini Come? Ma questo adesso fa cosa? Adesso fa mica Adesso fa il barone dei fiori Adesso fa la cesco Dove se scopa il culo In maniera 23 Diverta C'ha ancora 54 carte C'ha ancora 54 life points Quante carte ha il mazzo Ancora? 51 Io mi vergogno Del fatto che riesce a farlo girare Un mazzo così Sì Ma perché scola lui? Ma va Guarda che ci sono un sacco Di decklist così Ti giuro che ci sono Un sacco di decklist Da 60 carte Che sono straforti E per l'altro Scusa Su 5 carte Su 60 Ha pescato il rito di Arasemir 2x Ti assicuro che faceva altro Se non c'era il rito di Arasemir Non lo so però La mascherina Non lo so Rick Se devi mettere la mascherina La mascherina porco Dio Se la devi mettere porco Dio La mascherina Ma ve la mascherina Ma dai Ma pure questa in mano C'aveva Ma che culo E soprattutto non ha pescato quelli là Ma porco Aspetta Ma dai ce l'hai morto No Non ce l'ha Guarda Ma dai Ma schiappate Delle livelli Glamorose Sto Diego Ma ha rotto i coglioni Adesso gli scrivo su Instagram Scrivi Oh porco Dio Ma porco Dio Ma hai rotto il cazzo Ma perché mamma Konami Aiuta le altre persone Questo t'ha fatto Perdere tempo T'ha fatto pure Arasemir Non hai imprezzato Vedere la combo Ma la combo Che se ne fotte No po' capire il mazzo E rimaniamo vivi? No Che cosa Zit 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 Vediamo un po' Vediamo cosa succede qua Succede Vediamo se me lo nega Col grifone Te lo nega sicuro Ecco No pure quello Io non ci voglio credere Cioè zi ha tutto Eh beh ma non è giusto però Ha tutto Ma mamma Yekub Mamma Yekub Ha citato per farsi una mano così Eh probato Cioè porco Dio Io non ho farlo Comunque evocare Cioè in senso Eh vabbè ma cosa te fai Sei a 2000 life points Eh lo so Metto Ma questo è uno stream Ma questo è uno stream Stream Vediamo un po' Che su C'errebbe bellissimo Vedere magari una stream E vedere che stava giocando Contro Dio Eh è probato Non sta stremmando Che ne sai? Lo seguo Ma non lo sapevi chi era Non lo so tuttora chi è Non lo so tuttora chi è Eh ma vabbè Adesso si spacca il quiz invertito Da questo ha già usato 6 carte Che mi ha in mano Sì sì Io sto sicuro che spacca il quiz No no Si spacca Aspetta dice che è immortale Ha spaccato il quiz Porco Dio Ma è imbarazzante Porco Dio Ma che palle È devastante per davvero Eh ma mia madre Non solo scula lui Perché dai Ovviamente Ovviamente Ti ha messo in mano La più inutile di tutte Tra l'altro Bella Eh sì cioè Veramente Sei imbarazzante Dio carne E in più Oltre a sculare A fare il secondo Ma è un peccato Perché in sto turno Non muoio E se non ti spacca la quiz In sto turno Non muoio Ma ha spaccato quiz Dio carne Ma lo peschiamo Porco Gesù di merda Che secondo c'è rimasto La del quiz Penso che Non sa manco Cosa sta facendo Per me non la manco Stai giocando A cazzo di cano Ma andiamo A questo Esatto Non so se è fatto bene Vabbè Gli faccio 500 live Poi se va Ha ha Più giusto Per il gusto Di non farlo vincere A 8000 live points Tieni Non è perfect Esatto Tipo Tekken Tekken Battle phase Ok C'ha tipo 25 morse Ok Questo muore E mi fa calare l'altro Però me lo nega Con il grifone Con il grifone Il grifone può negare Quando vuole Si porco Dio Si porco Dio Eh vabbè Può negare Quando vuole Col grifone Si si Eh si perché No Non me l'ha negato Aspetta Perché tanto Ti attacca con gli altri Si in effetti Cazzo te lo nega a fare Questo ha tipo Pure l'effetto E adesso forse Non mi fa No Sennò avrebbe già fatto Prima No Non lo fa Guarda Per forza lui Poi Questo si attacca Lui mi attacca Corrida tra i temi E persa la partita Guarda che ha vinto Per questo Perché per lo spettro Ha vinto per lo spettro Aspetta Posso cucarmi la Catherine Regina E me la nega di grifone Porco Dio Cazzo Porco Dio Cazzo Ah no Me l'ha negato però Aspetta Eh ma questi qua Ormai Lo devo mettere in attacco Questo Perché Non lo so È in zero C'è la difesa Zero E mi intanto L'ha attaccato con tutti quanti No Le mancano tre mostri Sì no Tutti quanti quelli deboli Dico Perso Fammi rastipare l'effetto Anche se non posso Si attacca con quelli E' finito Peccato Eh lo bello 13 minuti di sucata Però abbiamo visto Una bellissima combo Dai Ma veramente fa un po' schifo Come fa un po' schifo No Non schifo no Perché Cadena ardente Trofeo guadagnato Hai perso contro Vai vai La prossima subito Perso contro Contro Bischoff La Come si chiamava Bischoff Jakub Se stai guardando Questo video Ammazzati Ma poverino Ma perché Jakub Noi stiamo cercando Di fare le cose simpatiche Sul master 2 Il costo arriva E fa Io gioco il meta Però è strano Che ha platino 5 Però Perché Di solito E' sempre a diamanti Tipo Magari Aveva altro da fare Sto mese Cioè Che cazzo ne so C'era che altro da fare C'era la tipella Vedi C'erano due cosi Due spaventapasseri Abbiamo macchi Porco dio C'era Lui Sì sì Prima macchi Porco dio Si fermava No Si fermava Se no tu Quanto cazzo Ti scavi Porco dio 25 Klifot Che schifo Klifot Klifot No secondo me è l'altro Quello che si spacca I cosi E klifotide Sì è quello E' perso E' FTK Di Cos Di Cyberstein E' lui Sì Io direi che Ne facciamo un'altra Sì Ma porco dio Di merda Porco E' prima che mettiamo Un FTK Poi mettiamo Diegube Diegube Eh fra un po' così Sono le 5 e 10 Sì le 3 e 10 Le 3 e 10 Porco dio L'ultimo tentativo Dai vediamo come va Bel dendativo Bel dendativo No no Aspè Aspè dai 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 Perché parte Parte in 5 minuti Questa video Konami Mamma Mamma Mammina Ci fa partire a noi Quando non serve Ma perché? Ma perché parte sempre l'alta? Che cazzo lo sappiamo noi? Che cazzo ne so io? Cosa? Topolino Tutto il posto No Poporino Sei topolino Tisca Tosca Topolino Porco dio Ma perché non iniziamo Perchè? Spaccata la porta Porco dio Quella porta è di vetro Se le tiri un pugno fatto bene Ma non iniziamo noi Con ste mani perfette Sono d'accordo Da fastidio anche a me Non puoi prendere la porta di vetro Fluffare Poi questa cazzo di carta Sempre in mano Porco dio Questa è la mano forte Vabbè però se può giocare E dispia secondo me Se può giocare Se può giocare Poi fluffalo e dispia Pure Che cazzo Ma ha passato Questa è tipo un mazzo troll Questo sicuro Ogni carta che posizioni Devo pagare 500 Per attivare Sì Occhio è la prima che ci fa perdere No No forse ci fa a favore Aspetta Allora fino a quando questa carta Deve pagare 500 Per Vuole giocare O posizionare Allora Allora aspetta Perché Mi chiamiamo Una cosa E' giusto No vabbè No è vero No Come faccio a perdere Perché C'è questa qua Posso levarmi la metà Se puoi perdere Perché hai settato adesso Quella lì Per levarmi Più life points Ma non devi Televarti life points Come no Zì Ci ho già tutto in mano Ho capito Ci ho già tutto in mano Sì Adesso Tanto puoi Puoi settare quanto vuoi Adesso Guarda qua Che hai 500 No è non vinciamo Sì sì che vinciamo Ma come no E tanto già Guarda che se evochi quello lì Eh ma non andiamo a meno di Sì Eh no Vai Scusa come fai Ma se Già che senti la trappola Che ne so Già che senti la trappola Eh Guarda che anche Che giochi eh Eh sì Se adesso le attivi Tutte e due sul mostro I pendenti Ti togli mille Non puoi Come no Getsu fumo Poi attivano solo Ok 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 Peccato No no Questa si Questa puoi Questa puoi Zitti 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 Guarda Aspetta Questa puoi Aspetta Perché non te la fa Perché l'hai già settata Ah è vero Porco Dio Perché se facciamo Queen's Reversal No adesso Paghiamo 500 Questo gli fa 1200 1200 Rimane a 300 Rimane No non ha senso farlo Adesso aspettiamo un turno A questo punto Cazzo Cazzo Aspettiamo un turno Adesso perdiamo veramente Di carte Eh per forza Ah No ma forse ho sbagliato io All'inizio Sì non dovevi fare così Perché ti sei tolto Meno della metà Assettando il pendente No Ti toglievi 4000 Se no Se no ti sei tolto 7500 Capito Quello che Ti vuole dire Non so come Cambiava Cambiava che L'hanno fatto L'hanno fatto Cambiava che Si toglieva più Life Points Così Invece no Assettato Perché andavo Direttamente a 4000 Andava a 4000 Direttamente Sì Sì Andava a 4000 Ma perché mi devi dare Il controllo Ecco Arrivato Ascherone Vabbè È lui Mascherone Si può vincere Mascherone Mascherone Però adesso Adesso Ma che cazzo Adesso stai sbagliato Un'altra cosa Sbagliato E qui parlo quello lì Perché se se lo mandi via Quello lì si fa 500 adesso No Sì Tutto alla fine Era quel sacquizzo No Se adesso mandi via il mostro Sì ma non mi attacca Esplode Se lo mandassi via di trappola Che senso ha Se lo mandassi via di trappola Trappola che Dopodiché 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 Porco Dio Che sbaglio Ma perché sbaglio Queste cose Madonna puttola Di merda Dio porco Intanto tu anni minus Porco di merda Dio porco stronzo E quello adesso vince Gesù di merda Bastardo Unculato Da 4 capri Di merda Da 12 capri Questa era buona da fare Ma non era nel senso Che dovevi aumentare il numero Ma Merda di crisi Questa era finita Si è fatto prendere Dalla foca del momento La foca del momento Porco Dio La foca del momento La foca O la foca del momento Adesso ti spacca il culo Adesso non puoi attivare più niente Porco Dio Sono 600 600 e 500 Perso Porco Dio Porco Dio Sto scorreggiando Cioè Voi non mi sentite Ma sto scorreggiando Il nastro Sto sentendo io Porco Dio Che puzza Madonna che merda Che schifo Che schifo Porco Dio No perché non l'ho fatta Ho sbagliato Che schifo Stai porca madonna 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 puttana E' brutta questa Che merda E mo E' bruttissimo Ma che ti sei mangiato Cammella variata E mo Ho perso E' stato bello Ragazzi E' stato bello E' stato bello In mezzo alla puzza E' la puzza Porco Dio Porco Dio Che ti sei mangiato Porco Dio Che cazzo ti sei mangiato Porco Dio Porco Porco Dio Porco Dio Henry 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 Henry